buongiorno a tutti allora magliettina l'avevo fatto vedere nel video precedente quindi non sto a farvela rivedere non sto a far vedere la maglietta tutte le volte che facciamo il video tanto in questi video della settimana l'avete vista tante volte è una maglietta che avevo già utilizzato gli anni passati ad agosto ci saranno quattro magliette quattro new magliette news 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 comunque ragazzoli ragazzoli torniamo indietro nel tempo torniamo indietro di ben 39 anni perché vi voglio parlare di una cantante di una canzone di allora e anche un po in così in generale di quell'anno in cui la maggior parte di voi non c'erano per non dire tutti visto che mediamente chi mi segue tra i 16 e i 25 anni incredibile ma vero il diversamente giovane seguito dai giovani io ringrazio tutti però poi certo ci sono anche persone più 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 grandi è però vedendo l'analytics mi mette 16 25 85 90 per cento donne 1 per cento 0 5 ogni tanto capita che qualcuno qualcuno qualcuna guardi qualche mio video ma una su mille ci sarà comunque siamo siamo nell'estate dell'ottantatré le radio e i giubboss trasmettono vamos alla playa oh 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 vamos alla playa mi fermo qua perché se no mi sparate de righeira i like chopin dei gasibo dei gasibo di gasibo di gasibo non dei gasibo gasibo è uno uno nell'aria di marcella bella è do you really want to hurt me do you really want to make me cry dei culture club o se preferite di boy george tra l'altro boy george definito miglior voce maschile femminile di quegli anni tutte canzoni destinate in futuro a rappresentare gli anni 80 non c'è dubbio ma in quell'agosto in cui Bettino Crassi diventa presidente del consiglio la canzone che mette tutti d'accordo è e non vado avanti amore disperato di nada una hit che di quegli anni diventerà emblema tanto quanto i capelli cottonati e le cinture del cerro tra l'altro amore disperato nell'ambito di quell'anno diciamo di il parade come numero di dischi venduti eccetera è stata globalmente al ventesimo posto globalmente ci hanno fatto l'elenco dei dischi venduti e lei è ventesima nell'arco del periodo in cui i suoi dischi sono stati venduti nada eclettica e camaleontica nell'83 ad appena 30 anni si è già lasciata alle spalle un paio di vite artistiche è stata infatti una diva bambina della canzone melodica italiana debuttando 15enne a sanremo con ma che freddo fa ma anche una musa dei cantautori impegnati come paolo conte e piero ciampi col quale ha realizzato ho scoperto che esisto anch'io un album scioccante ed avanguardia ancora oggi attualissimo agli inizi degli anni 80 la cantante toscana sterza all'improvviso verso il pop più leggero nell'81 con dimmi che mi ami che mi ami che mi ami solo te amo solo te dimmi che tu ami eccetera eccetera evito perché sennò mi sparate e l'anno dopo con ti stringerò giuro che ti farò male brano che alcuni suoi discografici definiscono esagerando porno in effetti era un po un pochettino se tenendo conto tutti i tagli che fanno nei cartoni animati quella canzone lì era ma come nasce la perfezione pop di amore disperato qualche tempo prima l'aiuto regista di giulio bosetti col quale nada è a teatro nei panni di anna frank le ha consegnato una cassetta col brano scritto da un suo amico una lunghissima canzone solo voce e sitar di certo non è quello che nada sta cercando ma restandone affascinata chiama il numero scritto a penna sulla cassetta e fissa un appuntamento col suo autore è così che varo venturi si presenta a casa sua per farle sentire degli inediti tra questi ce n'è uno articolato su un giro armonico che inizia con un vocalizzo un po buffo una sorta di hoc ante litteram parla di disagi familiari di una madre sepolta in casa e di un padre vittima di debiti cambiali non ha convinto nessuno dei discografici che finora l'hanno ascoltata ma nada pur storcendo il naso davanti al testo ne adora la musica e propone al giovanissimo autore di cambiare le liriche riscrivendole insieme prende forma così la canzone che tutti conosciamo ci sono due tizi che ballano tra le stelle accese ma non ci sono cellulari né social né app di incontri l'amore estivo diventa così un ritorno nel luogo del primo incontro un'attesa straziante un telefono fisso che tace e poi una notte squilla finalmente come un gallo è insomma una sorta di inno all'incontro fortuito quello che fa cambiare direzione a una serata in cui ti annoi mortalmente una celebrazione del colpo di fulmine estivo che dura una stagione come le cicale 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 vabbè questa è una battutina mia e proprio per questo resta impresso nei ricordi il nuovo testo della canzone quasi pronto manca solo un nome da dare alla discoteca in cui è ambientata carlotta la figlia che nada ha avuto dal compagno di una vita gerry manzoli es bassista dei camaleonti si aggira intorno alla scrivania dove la madre e venturi stanno lavorando reggendo in mano un piccolo sassofono giocattolo di colore blu a nada che si sta spremendo le meningi cade l'occhio sull'oggetto e pone fine a rompicapo il locale si chiamerà sassofono blu e la canzone amore disperato la cantante toscana è dunque coattrice del brano sì ma non per la siae una delle sue precedenti case discografiche per sciogliere il contratto capestro di cui lei voleva liberarsi le ha chiesto un risarcimento danni di 100 milioni di lire di allora cifra che nada non possiede oppure la cessione di tutte le sue future entrate come autrice fino al raggiungimento della somma richiesta la signora malanima accetta ma si vendica depositando le sue composizioni a nome del marito che di fatto di amore disperato risulta legalmente autore accanto a varo venturi la canzone arraggiata con uno stile elettropop tipicamente anni 80 e arricchita con una solo del sassofono citato nel testo sarà un successo da oltre 300 mila coppie vendute e farà ottenere alla sua autrice diversi riconoscimenti a manifestazioni come festival bar azzurro e vota la voce bei tempi quando c'era il festival bar azzurro e vota la voce adesso c'è quel music award che poi gli cambiano il nome tutte le volte qualcuno ha detto a sto punto ridateci il festival bar e la finale a verona e smettetela con queste cose comunque proseguiamo negli anni se la prenderanno in prestito altri artisti che ne faranno una propria versione oltre che sulle piste da ballo delle serate a tema finirà nella colonna sonora di diversi film e verrà scelta anche da gucci per la sua campagna mondiale nell'87 dopo una partecipazione a sanremo in cui il suo pezzo bolero non verrà purtroppo capito nada si ritirerà momentaneamente in un silenzio artistico per prepararsi all'ennesima metamorfosi quella definitiva a partire dal 1992 può finalmente firma firmare le sue canzoni e torna sulle scene nelle vesti di canto autrice rock col suo inconfondibile timbro rauco e graffiato sporcato dal fedele sigaro sfornerà una serie di album autografi spigolosi e coraggiosi che le procureranno oltre all'approvazione della critica un nuovo pubblico fatto di giovani appassionati di rock indipendente che quasi non sanno nulla del suo passato tornerà inoltre a teatro con spettacoli scritti da lei e pubblicherà dei romanzi di alcuni biografici come il mio cuore umano recentemente diventato un biopic per la tv la bambina che non voleva cantare diventerà senza volerlo un punto di riferimento femminile per la scena alternativa e collaborerà con le migliori penne di quest'ultima massimo zamboni dei ccp john parish zen circus e motta bene ragasoli spero di avervi incuriosito su queste cose di nada che molti di voi manco conoscono magari l'unica volta che avete sentito parlare di nada è stato quando c'erano i due personaggi pio e ammedeo che dovevano conquistare la cubana e lui gli chiede ti piace la musica così lei gli risponde nada e loro vanno sotto a cantargli ma che freddo fa e gli arriva giù la secchiata perché molti di voi nada non sanno chi sia quindi magari vi ho messo la pulce nell'orecchio adesso andate a curiosare nada su youtube proprio a proposito di youtube vedete quando io sento dire no la tecnologia non la vorrei tornare e ci si ma li devi comprare i cd ti devi vuoi sentire una canzone non ha il cd devi andare in un negozio e comprarti il cd con la tecnologia tu ti puoi sentire tutta la musica degli anni 80 che vuoi se vuoi tornare indietro nel tempo senza nessun problema senza sbattimenti in un nanosecondo eccetera eccetera ti vuoi fare la colonna sonora ti prepari l'elenco delle tue 150 canzoni che ti vuoi sentire le inserisci sul computer te le senti senza nessun problema è il saperla usare la tecnologia non è c'è la struttura ma è utilissima il problema è non farci sopraffare dalla tecnologia cioè se puoi uscire uno deve uscire devi scegliere tra esco con i miei amici a giocare a pallone o sta a casa a giocare col computerino eccetera esco con i miei amici a giocare a pallone e sfrutto la tecnologia per organizzare la partita già con le squadre che arriviamo sappiamo già anche come si hanno divisi le squadre così si inizia subito pensate che bello noi quando eravamo giovani allora dovevi fare il giro dei quattro cantoni a citofonare a tutti per andare al campetto poi arrivavi al campetto bim bum bam e preparavi la squadra poi ora che preparavi la squadra iniziavi a giocare giocavi un'ora perché poi arrivava a buio adesso con whatsapp fai allora ragazzi ci si vede oggi le squadre sono così così va bene ci siamo tutti ok ci vediamo lì prepara portate il pallone chi porta il pallone che porta tac e tu già arrivi lì già pronto inizi subito in dieci minuti risolvi tutto invece giro dei cantoni girare dappertutto vedere dove erano pensate che bello ma pensate che bello che sarebbe stato negli anni 70 80 avere la già la tecnologia quanto risparmio di tempo anche le lettere belle lettere che arrivano le letterine le cartoline eccetera eccetera poi ci mettevano una quaresima a volte mi arrivano le cartoline dell'estate alla fine di settembre ai primi di ottobre mandavi le letterine all'amica di penna ci mettevo una settimana ad arrivare poi ce ne mettevano due a risponderti invece adesso whatsapp facebook usciamo usciamo tutto più veloce tutto più e non si perde tempo poi io capisco che magari stare a perdere tempo sarei ma perdiamolo di più nei rapporti face to face no invece tutto di corsa l'altro giorno ve lo dè vi ho raccontato che abbiamo conosciuto quella coppia di lecco che erano qua in bicicletta abbiamo colloquiato e gli ho fatto una battuta no sul rapporto di coppia poi concludo perché sto uscendo dal seminato o dal seminario no dal seminato il seminario l'ha fatto don gigi inter e don cherubino inter io dicevo una volta ci si conosceva si usciva insieme si capiva se ci poteva essere feeling c'erano le cosiddette affinità nel tipe si finiva letto adesso si finisce a letto ci si conosce ci si rende conto che non ci si sente non 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 c'è feeling non 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 c'entriamo un cazzo scusate il francesismo ci si manda a fanculo però la battuta che mi fanno tutti dopo una storia finita magari dopo due tre mesi ma intanto la ciulada perché ormai conta quello non è io guardate io mi arrabbio perché non sento non ho mai sentito nessuno dopo che una breve storia è finita mi dispiace che è finita questa storia perché con lei stavo bene dovunque andavamo stavo bene no l'unica cosa che mi dicono l'importante che l'ho ciulada oppure come la ciulava ven oppure cose simili non ho mai sentito nessuno dire ed è triste come stavo bene con lei ovunque andavamo anche nel posto più scrauso più ridicolo dove teoricamente ti rompi i testi ero con lei stavo bene non è mai successo e a me viene la tristezza ragazzi ormai aveva ragione il grande rino gaetano quando diceva un mondo diverso ma fatto di sesso ormai è fatto solo di quello molti saranno contenti io da romanticone quali sono quale sono non ci riesco cioè non non c'è come cantava il grande venditti e non c'è sesso senza amore dura legge nel mio cuore meditate gente meditate arrivederci